Tieni duro, Chessy! Stiamo arrivando! Guardate là! Per mille bulloni! Quelle sono le piante pizzichine giganti! Accipicchia! Come facciamo a superare le piante pizzichine? Eh, mi è appena venuta un'idea! E se trovassimo qualcosa che ci aiuti a saltare al di là delle piante? Giusto! Qualcosa che abbia molta elasticità! Diamo un'occhiata! I materiali si dicono elastici quando si allungano senza rompersi E poi tornano ad essere come erano prima E la forza che producono ti permette di rimbalzare Guardate! Uno di quei due oggetti potrebbe essere abbastanza elastico da permetterci di superare le piante Sono una scatola di cartone e un tappeto elastico Quale dei due è elastico? La scatola o il tappeto elastico? Il tappeto elastico, sì! Infatti possiede moltissima elasticità Tocca a te i Blaze! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Evviva! Per mille bulloni ce ne sono delle altre Coraggio! Cerchiamo qualcosa di abbastanza elastico che ci faccia saltare oltre le piante pizzichine Che ne dite di uno di quegli oggetti? Vediamo un po' Abbiamo una molla e un tubo Quale dei due è elastico? La molla o il tubo? La molla! Esatto! Siamo pronti! Un bel salto! Stiamo volando! Ha funzionato! Ora dobbiamo saltare le ultime piante pizzichine rimaste Stavolta abbiamo bisogno di tantissima elasticità Perché quelle piante pizzichine sono le più alte di tutte Ehi! E se usassimo uno di questi oggetti? Sì! Quale dei due è elastico? La cesta o la palla di gomma? La palla di gomma! Giusto! Pianti pizzichine! È il momento di usare... L'elasticità! È vero! Sì! L'elasticità non si deformerà l'oggetto che ce l'ha L'elasticità è proprio una strana capacità Puoi saltare su un trampolino perché ha l'elasticità Un'elasticità provata allungare e poi se lo lascia andare Tornerà alla sua forma originale L'elasticità non si deformerà l'oggetto che ce l'ha L'elasticità è proprio una strana capacità Per mille bulloni! La palla di sapone è scoppiata! E adesso Chassis è bloccata su quello spuntone di roccia! Presto, Blaze! Dobbiamo raggiungere quella cascata se vogliamo salvare la mia cucciola! Chassis! Sta tranquilla, piccolina! Ora ti portiamo in salvo! Te lo prometto! Ehi, forse ho trovato il modo per aiutare Chassis! Guardate! Se usiamo una di quelle corde elastiche possiamo scendere e riportarla quassù! Giusto! Da un'occhiata! Queste corde hanno un sacco di elasticità Infatti si possono estendere in questo modo per poi tornare come erano prima Stiamo arrivando, Chassis! Elasticità! Vieni, piccolina! Ce l'abbiamo fatta! E andiamo! Anch'io ti voglio bene, Chassis! Sei la migliore cucciola del mondo! Così lo sai, tu lo sai, lo sai Tutto ha un peso e una massa, sai Un sale zero volerà e che pesa un po' così Lo sai, lo sai Ogni cosa ha un peso e tu lo sai Ogni cosa ha un peso e tu lo sai, sì che Lo sai, lo sai, lo sai, lo sai, lo sai Evviva! Vigili del fuoco, AJ, ci ricevi! Forte e chiaro, Vigili del fuoco! Ci serve l'acqua della cisterna immediatamente! Fate presto! L'incendio sta diventando sempre più grande! Ragazzi, resistete! Blaze e io saremo lì con la cisterna il prima possibile! Grazie, AJ! Passo e chiudo! AJ, mi serve tutta la velocità possibile! Attento! Per mille bulloni quelle rocce ci bloccano la strada Ora come facciamo a portare l'acqua ai Vigili del fuoco? A quanto pare l'unico modo per riuscire a passare è distruggere le rocce con dei colpi molto potenti Già, e io so come ottenere più potenza Dobbiamo soltanto diventare più pesanti Così avremo molta più massa Una massa di... Ben cento tonnellate Vediamo un po' qual è la mia massa in questo momento Il numero che vedi qui è cento? No, quello è il numero cinquanta Perciò mi serve più massa Ehi, ho appena avuto un'idea Pronto, pronto! A Blaze l'auto articolato serve aiuto Mi ricevete! Forte e chiaro, EJ! È la dottoressa Rashi! Ho sentito che ti serve aiuto e sono venuta il prima possibile Grazie, dottoressa Sali a bordo Controlliamo se la massa di Blaze arriva a cento tonnellate Il numero che vedi è cento? No, quello è sessanta Perciò a Blaze serve ancora più massa Guarda, ci sono gli operai del cantiere Ehi, Blaze! Sappiamo che ti serve aiuto! Ed eccoci qui Ehi, grazie, ragazzi! Il numero che vedi è cento No, è ottanta Perciò sono molto pesante Però, per frantumare quelle rocce ho bisogno di ancora più massa Un momento, Blaze Ma questo è il verso dei gorilla Ci vogliono aiutare! Grazie mille, gorilla E adesso vediamo quant'è la mia massa Il numero che vedi è cento? Sì! Adesso pesa cento tonnellate! Ora tenetevi forte Frantumiamo le rocce! Bel colpo, Blaze! Fantastico! Evviva! Ottimo lavoro, Blaze! Grazie a tutti per l'aiuto! Blaze, guarda! Quello è il fumo dell'incendio! Dobbiamo portare l'acqua ai vigili del fuoco È in fretta! Attivo la velocità del lampo dell'auto articolato, Blaze! Per farmi andare veloce come un lampo di... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Oh, oh, io ho finito l'acqua Anche io! Io pure! Guardate chi c'è! L'auto articolato Blaze! Scarichiamo l'acqua! Grande, Blaze! E vai! Il fuoco è spento! Non sappiamo come ringraziarvi Senza il vostro aiuto non avremmo mai domato l'incendio È stato un vero piacere, ragazzi Non dimenticare se una cosa importante vuoi farti consegnare l'auto articolato Blaze devi subito chiamare Sì! Wow! Wow! Sì! Taglia, affetta, separa, spezzetta Così ognuno ha la sua fetta Proviamo con il toast Dividilo con me Lo tagli in due pezzi o se vuoi anche in tre Puoi dividere ogni cosa in più porzioni Tutti identiche saranno le razioni Taglia, affetta, separa, spezzetta Ognuno avrà la sua fetta Dividilo con i viti in parti uguali Così fanno gli amici ideali Dividilo con i viti Seppala, spezzetta Taglia in parti uguali Non si sbaglia Dividilo con i viti Eccoci qua Siamo arrivati all'aperti da paludo delle bolle Aiuto! Sono qui Aiuto! Hai sentito? Questa è la voce di Viola Probabilmente è dall'altra parte della palude Blaze, attento! Qui è pieno di bolle Salvi Ma dobbiamo essere prudenti o finiremo anche noi prigionieri di una partida bolla Ehi, mi è venuta un'idea Noi siamo cavalieri Possiamo far scoppiare le bolle Ma lo sai che hai proprio ragione E per farlo Useremo le nostre spade Esatto! Prima però dobbiamo dividerle Così ognuno farà scoppiare lo stesso numero di bolle Da un'occhiata Ci sono due cavalieri E sei bolle Che succede se dividiamo le bolle così? Ogni cavaliere avrà lo stesso numero di bolle No, le bolle non sono divise equamente E se invece le dividissimo in questo modo? Abbiamo lo stesso numero di bolle adesso Sì! Ognuno ha tre bolle Sono divise equamente Scoppiamo le bolle! Una, due, tre! Una, due, tre! Sì! Ok! Aiuto! Sentito! Ora dovremmo essere vicini a Viola Ma per salvarla dobbiamo prima scoppiare altre perfide bolle Dieci! E di quelle grosse! Proviamo a dividerle così Abbiamo tutti e due lo stesso numero di bolle No Facciamo un altro tentativo E se le dividessimo così? Adesso abbiamo lo stesso numero Sì! Sono cinque bolle a testa Scoppiamo le bolle! Una, due, tre, quattro, cinque! Ecco fatto! Non ci sono più bolle, Sir AJ! Sir Blaze! Sir AJ! Aiuto! Guarda! Quella è Viola! Il vento sta allontanando la bolla Dove è rinchiusa! Oh no! Su, coraggio, sali a bordo! È ora di usare la velocità del lampo! Per farmi andare veloce come un lampo di... Vai Blaze! Vai Blaze! E ora... E ora... Cavalieri in soccorso! Oh no! Oh no! Oh no! Sono libera! Oh no! 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 Guarda! Ci sono i tuoi amici! Viola! Yuppie! Boh! Sei salva! Su, coraggio, Viola! Ora che siamo di nuovo tutti insieme, torniamo a casa! Questa mi sembra un'ottima idea! E noi sappiamo come tornare a casa in grande stile! Wow! I sette unicorni hanno unito i loro poteri magici per realizzare una pista arcobaleno! Andiamo, miei cavalieri! Seguitemi! E ora... Sull'arcobaleno! Parti! Oh sì! Come gli eroi hanno superpoteri! Parti! Questi! Cavalieri! Ci siamo, gattina acrobata! Tu sei pronta? Miao, miau, miau! Diamo inizio allo show! Miao, miau, miau! Qui c'è una dog fuori controllo! Fate larga! Per mille bulloni, Darrington ha preso il volo su quel gigantesco pallone a forma di hot dog! Darrington! Miau, miau, miau! Oh, la gattina acrobata è preoccupata per Darrington! Va tutto bene, gattina acrobata! Noi due siamo qui per aiutarti! Miau, miau! Certo! Ci basterà fermare quel pallone a forma di hot dog e porteremo il nostro amico in salvo! Miau, miau! E vai! Coraggio, gattina acrobata! Andiamo a salvare il nostro Darrington! Miau, miau, miau! Sì! Miau! 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 Oh oh! Quel pallone a forma di hot dog lo sto portando troppo a largo! Per raggiungerlo ci servirebbe qualcosa che possa muoversi velocemente sull'acqua! Ehi, so cosa ci serve! Un vero e proprio idroplano! È un motoscafo molto leggero e ha due motori così potenti che può sfrecciare sull'acqua come una saetta! Oh oh! Guarda un po'! Mi sono appena trasformato in un velocissimo motoscafo idroplano! Ah ah! Uh oh! Uh oh! Che fai? Oh oh! Oh oh oh! Hai ragione, gattina acrobata e Darrington! Hmm! Il pallone lo sta portando molto in alto! Dobbiamo trovare un modo per arrivare lassù e salvarlo! Miau, miau! Ehi! Credo che la gattina abbia avuto un'idea! Miau, miau, miau! Wow! Forte! Sta usando un paracadute per sollevarsi in aria! Proprio così! Sta volando sopra l'acqua! Miau, miau! Gattina acrobata! Allora sei qui! Come sono felice di vederti! Oh no! Miau, miau! Oh guarda! Gattina acrobata sta cercando di salvare Darrington! Ma non vola abbastanza in alto da raggiungerlo! Niente paura! So come far salire il suo paracadute più in alto! Dobbiamo solo far andare il motoscafo più veloce! E per farlo useremo l'accelerazione! Sì! Per far andare più veloce Blaze di... Accelerazione! Accelerazione! Sta funzionando! Quando accelero il paracadute di gattina acrobata sale più in alto! Gattina acrobata vola in alto quanto Darrington! No, non ancora! Deve salire un po' più su! Oh 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 oh! Gattina acrobata! Miau, miau, miau! Per far volare più in alto gattina acrobata dobbiamo accelerare ancora un po' di... Accelerazione! Accelerazione! Miau, miau, miau! Gattina acrobata ora vola in alto quanto Darrington! Sì! Wow! Miau, miau! Gattina acrobata! Miau! Sì! E vai! Woo! Bravissima! L'ha salvato! Oh, gattina acrobata, tu sei in assoluto l'amicetta più coraggiosa che esista in tutto il mondo! Miau, miau, miau! Ora tenetevi forte, ragazzi! Abbiamo uno show da portare a termine! Sì! Woohoo! Time! Miau! Miau! Però, per eseguire tutti quei giri spaventosi e quell'incredibile salto, dovrete andare molto veloci! Per fortuna, noi abbiamo la capacità di accelerare e di andare super veloci! Possiamo usare la velocità del lampo! Wow! Che cosa aspettiamo, ragazzi? Facciamo le acrobazie insieme! Sì! Per farci andare veloci come un lampo di... Vai, Blaze! Vai, Blaze! È stato un gran bel salto! È stato un gran bel salto! Cambia che c'è! Hai perfettamente ragione, gattina acrobata! Possiamo dire che quello è stato proprio un salto coi baffi! Dinosauri in gara! Ai posti di partenza! Siete pronti? Via! Non vedo l'ora di tagliare la linea del traguardo, vincere quel bellissimo trofeo e... Pickle, che cosa stai combinando? Niente di speciale! Mi sto solo allenando ad usare la coda! E a che cosa ti serve? Come, non lo sai? I dinosauri usano la coda per difendersi dai pericoli che sono in agguato, come... Come gli altri dinosauri, oppure i coccodrilli o i pantaloni! Pantaloni? Ma che assurdità! Sono sicuro che i dinosauri non devono temere i... PANTALONI! A cipicchia! Questo è il clacson di Blaze! ZEC! Uffo, non è giusto! Voglio vincere io il Dino Rally! Voglio vincere io il Dino Rally! Voglio vincerlo io! Wow! Ragazzi, fermatevi un attimo! Lo sentite, questa specie di bruntolio? Oh! ZEC lo conosce! Questo è il rumore della terra! Non è che si spacca! Non è una bella cosa! Per mille bulloni, siamo atterrati in una specie di caverna sotterranea! Visto? Sembra che Blaze e il suo team siano in un gran bel pasticcio! Sarò costretto a vincere io! La nostra squadra non riuscirà a vincere se resterà bloccata qui! Ehi, non preoccuparti, Zeg! Troveremo un modo per uscire! Guardate! Un tracodattilo è volato fuori dalla caverna! Accidente! In quelle tane sulla parete vivranno certamente altri tracodattili! Se noi riuscissimo a trovarli, potrebbero farci uscire volando! Oh! Zeg sa come fare a trovarne altri! Zeg userà le coordinate! Giusto! Visore! Coordinate per trovare un tracodattilo! Le coordinate sono 3, 4 Cominciamo con il numero 3 Contiamo in orizzontale fino a 3 Conta con noi! 1 2 3 Bene! Passiamo al secondo numero che è 4 Contiamo in orizzontale fino a 4 Conta con noi! 1 Ho trovato un tracodattilo! Ehi, tracodattilo! Potresti dare un passaggio a Zeg! È divertente! Grazie infinite, tracodattilo! Coraggio! Aiutami a trovare un ultimo tracodattilo! Le coordinate sono 4, 6 Contiamo in orizzontale fino a 4 1 2 3 4 Sì! Adesso contiamo in verticale fino a 6 Conta con me! 1 2 3 4 5 6 Ehi, tracodattilo! Mi dai uno strappo per uscire? Vai così! Ehi, tracodattilo! Yuppi! Grazie dell'aiuto, tracodattili! Ci vediamo, amici! Oh, non posso permettere che mi battano un'altra volta! Ho bisogno ancora di un ultimo tranello! Qualcosa che sia come... Qualcosa che sia tipo... Questo! Ora vedremo se Blaze e Zeg sapranno perdere con sportività! La porta di pietra si sta chiudendo! Oh oh, questo sì che è un guaio! C'è un solo modo per passare prima che la porta si chiuda, ed è andare super veloci! E' ora di usare la velocità del lampo dei Dinosauri! Per farci andare veloci come un lampo di... Vai Blaze! Vai Blaze! E i vincitori del Dino Rally sono... Blaze e Zeg! Ce l'abbiamo fatta, Zeg! Abbiamo vinto! Blaze e AJ? Siete i migliori compagni che Zeg abbia mai avuto! Oh, attento, Blaze! Oh! Uh! Hai visto? Appena in tempo! Oh oh, guardate! Gli sparapallottole hanno distrutto i ponti! E adesso non potremo più raggiungere il traguardo! Beh, se non ci ha consentito a usare i ponti, allora useremo le gomme Power per arrivarci volando! Sì! Gli daremo il potere della propulsione! Per dare alle gomme il potere della propulsione di... Potere della propulsione! Potere della propulsione! Stiamo volando! Attento, Blaze! Gli sparapallottole sono dietro di noi! State tranquilli! So io come fare per liberarcene! Li dobbiamo immobilizzare con qualcosa di appiccicoso! Sì! E possiamo usare l'adesione! Sta a vedere! Ho del nastro adesivo e un pallone da basket! Quale dei due appiccica? Il nastro o il pallone da basket? Il nastro! Esatto! Ha funzionato! Ha funzionato! Uno sparapallottole è rimasto attaccato al nastro! Ma gli altri due stanno continuando ad inseguirci! Presto! Dobbiamo trovare qualcos'altro di appiccicoso! Vediamo un po'! Qui abbiamo una graffetta e dello sciroppo d'acero! Quale dei due è appiccicoso? Questa graffetta oppure lo sciroppo d'acero? Lo sciroppo d'acero! Sì! È arrivato il momento... ...dell'adesione! Perfetto! Perfetto! Adesso ne è rimasto soltanto uno da fermare! Per poter fermare l'ultimo sparapallottole possiamo usare della colla o dell'acqua! Quale delle due è appiccicosa? La colla oppure l'acqua? La colla! Esatto! Wuhuu! Ce l'abbiamo fatta! E ora non ci daranno più fastidio! Sì! Ecco il traguardo! Oh oh! Guardate! Quello è Crusher! Ce l'ho quasi fatta! Ce l'ho quasi fatta! Abbiamo solo una possibilità per vincere. È arrivato il momento di far andare le gomme power alla velocità del lampo! Wow! Per farmi andare veloce come un lampo di... Vai Blaze! Vai Blaze! Er... Il vincitore! Eh? Blaze! Blaze! Oh! 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 Ah, sì! Ben fatto, amici! Abbiamo vinto! Ehi, Blaze, adesso che abbiamo vinto la gara del Monte Supremo, che cosa ne dici di fare una festa? Sapete, un'idea ce l'avrei. Che ne pensate di usare le nostre gomme power per festeggiare con il potere del gelato? E poi! Sì! Ehi, guardate! Ci sono dei binari! Questa galleria è una scorciatoia per superare le montagne. Una scorciatoia? Io adoro le scorciatoie! Certo che con questa scorciatoia è molto accidentata! Aspetta, Sparkle. Noi non possiamo andare veloci sui binari. È vero. Per andare più veloci, ci dovremmo trasformare. Ecco fatto! Ci siamo trasformati in... Mega Treni ad alta velocità! Forza, treni ad alta velocità! Per di qua! Ehi, che cosa sono questi rumori? Oh-oh! Questa sembra la voce dei... Big Horn! Per mille bulloni! Hanno gettato dei bidoni della spazzatura sui binari! Aiutaci ad evitarli. Su quale binario sono i bidoni? Su quello blu! Giusto! Presto, Sparkle! Cambia binario! Bravissima! Visto! Stiamo per uscire dalla galleria! Ma ci sono ancora i Big Horn! E stavolta i bidoni sono finiti su due binari diversi! Su quali binari hanno gettato i bidoni? Su quello rosso e quello blu! Ciao, ciao, bigorna Sì! Siamo riusciti Attenti Per mille bulloni, quel robot sta alzando un muro per impedirci di proseguire Ma noi proseguiremo lo stesso, dobbiamo solo trovare il modo di superare quel muro Uh, forse ho un'idea Per superare il muro possiamo usare questa, una mega fionda Sì, è una splendida idea, Sparkle L'importante è riuscire a volare seguendo la giusta traiettoria Questa traiettoria ci farà superare il muro? No Proviamo un'altra volta E con questa traiettoria riusciremo a farcela? Sì! Monsterdom, stiamo arrivando! Ma... Via! Devo impedire a Blaze e Sparkle di portarsi in vantaggio Faglio vincere io! Attenzione! Per mille bulloni, la pista è crollata Oh, quanto mi spiace A questo punto nessuno riuscirà mai più a tagliare il traguardo Ad eccezione di me! Forza ragazzi Dobbiamo trovare il modo di passare dall'altra parte Uh, ho trovato! Se riuscissimo ad andare super veloci potremmo fare un bel salto Giusto! Dobbiamo usare la velocità del lampo! Per farci andare veloci come un lampo di... Vai Blaze! Vai Blaze! Vai Blaze! Ed ecco i vincitori! Sparkle e Blaze! Sìììì! E vai! Non è meraviglioso? Abbiamo vinto! Davvero incredibile! Così si fa, Blaze e Sparkle? Una corsa davvero fantastica! Grazie, grazie a tutti quanti! Ancora non ci credo di avercela fatta! Ho guadagnato tutti gli adesivi e... abbiamo vinto! Le mie congratulazioni, Sparkle! Hai fatto davvero un ottimo lavoro! Grazie, fratellone! E adesso, ragazzi, seguetemi! Avanti, squadra! Da questa parte per la gara di costruzione! E adesso come facciamo? Questa discesa è troppo ripida! Lo so io! Per scendere ci basterà costruire delle slitte! Giusto! Ci servono delle slitte che siano lunghe abbastanza da contenerci! Delle slitte della lunghezza di... almeno 4 metri! Ehi, Zeg! Tu per caso hai dei pannelli di 4 metri? Zeg, credi di sì? Ottimo! Coraggio, allora! Misuriamo! Quale pannello ha una lunghezza di 4 metri? Quello blu! Sì! Perché coincide con il numero 4! Forza, squadra! Adesso costruiremo le slitte! Ottimo lavoro! Ora possiamo partire! Uh-huh! 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 Sì! Questa discesa è stata stupenda! Lo stadio in cui si svolge la gara! Uh-huh! Siamo molto vicini! Sì, ma non possiamo arrivarci via terra! Beh, allora l'unica possibilità che abbiamo è arrivare alla gara volando! Sì! Abbiamo bisogno di ali con una larghezza di 8 metri! Osserva attentamente! Quale ala ha una larghezza di 8 metri? Quella arancione! Sì! Siamo tutti pronti? Spicchiamo il volo! U-uh! 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 Rimaltabile drag vola! U-uh! Gara di costruzione? Ecco che arriviamo! U-uh! U-uh! U-uh-uh! U-uh! 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 Gentile pubblico, ancora nessuna traccia di Blaze e della sua squadra di costruttori. Immagino perciò che non sapremo mai se... Aspettate un momento! Non ci posso credere! Stanno arrivando alla gara in volo! Sì! U-uh! 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 Questa sì che è un'entrata spettacolare! U-uh! 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 Potente trivella! Sì! Le trivelle utilizzano un tipo di macchina semplice che si chiama vite. Ruotando, la vite riesce a entrare nel materiale in cui si scava, creando un tunnel. E vai! Mi sono trasformato in una mega trivella! Funziona, Blaze! Blaze, stai scavando una galleria attraverso la neve! Alzata! Hai sentito? Quelle erano le voci dei pinguini? Sì! Per trovarli bisogna capire da che parte si deve scavare. Cerchiamoli insieme. Per arrivare al primo igloo potremo andare in alto o in basso. In che direzione andiamo? In alto o in basso? In basso! Esatto! Sì! Ecco fatto! Per voi, pinguini! Una gustosa pizza con aggiunta extra di cubetti di ghiaccio! Per raggiungere l'ultimo igloo possiamo andare in alto o in basso, a sinistra o a destra. Da che parte dobbiamo andare? In alto, sì! Ecco qua, pinguini! Una freschissima e deliziosa pizza ai ghiaccioli! Dobbiamo scappare, pinguini! Abbiamo una gara da vincere! Eccoci qui, gente! Direttamente sulla direttura d'arrivo! Alla fine di questo rettilineo, il traguardo, dove l'elefante attende la sua pizza! E il mondo attende impaziente di sapere chi sarà il campione di oggi! Ecco che come per magia, arriva Crusher! Proprio così! E dopo che avrò consegnato l'ultima pizza, io sarò il vincitore! Sì, sì, sì! Aspita, Crusher, da quel che vedo adesso niente è più in grado di fermarti né il circuito, né il clima e nemmeno la buca che c'è davanti a te! Di quale buca parli? Oh no! Ditemi che non è vero! Non... Brace! Ehi, Crusher, ti serve aiuto? No, grazie! Ok, magari mi può bastare un aiutino! Molto bene, Crusher! Pronti per terminare la gara? Sì! Chi porterà per primo la pizza oltre la linea del traguardo vince! Ma non mi pare difficile capire chi sarà il vincitore! Io! AJ, dammi un po' di velocità! Lo sapevo! Nessuno riuscirà a consegnare la pizza prima di me! Nessuno riuscirà nemmeno... Blaze! E il vincitore della grande corsa delle pizze è... Blaze! È tutta tua, elefante! Una pizza gigantesca con doppie noccioline! Wow! Era davvero affamato questo elefante! Le mie congratulazioni, Blaze e AJ, per la vostra straordinaria vittoria! E ora siete pronti per vedere il vostro premio? Il nostro premio? Immagino che il vostro sia un city! Eccolo qui! L'unico! L'inconfondibile! Trofeo pizza d'oro! Wow! Che meraviglia! E la parte migliore è che... Questo trofeo non è un semplice trofeo, ma è anche un forno per cuocere le pizze! È deliziosa! Ha ha!